Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere come spawnare un Ender Dragon Bene sì, un Ender Dragon Innanzitutto andate su, qua, avvio Vi aprirà qui La chat Adesso dovremo scrivere Slash Slash No, ok, Slash Slash Guardate Oh, non so se Salmon Allora, Salmon Allora, staccato Summon Ah no, ho sbagliato raga Summon Spero che va Sì ragazzi Bene, adesso clicchiamo tab finché non esce Ender Dragon Allora, no No No, no Beh, intanto noi facciamo Cove Creeper Dolby Angel Ender Guardian No No Ender Crystal Ed ecco Ender Dragon Quindi noi adesso possiamo piacere l'Ender Dragon Ecco qua ragazzi Però è sparito via Vabbè Quindi ragazzi noi abbiamo evocato un Ender Dragon Come potete vedere Come potete vedere È vero Mica è fake È tutto vero Questo Robo Bene Bene sì E poi se vogliamo comunque ovviamente possiamo spawnare Ender Crystal Cose varie Per Vabbè Le solite cose E io comunque ragazzi vi saluto in un prossimo video E ciao 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 Ciao